Ciao sono Luca di MisterCadget e per una volta non vedete un telefonino nelle mie mani perché oggi voglio presentarvi un prodotto davvero particolare è il meraviglioso zaino che offre OnePlus sul suo sito ed è veramente il delirio degli amanti della tecnologia guardiamolo insieme quello che vedete nelle mie mani è il nuovo travel backpack di OnePlus un accessorio che viene venduto ad un prezzo di circa 80 euro e quante migliaia di euro di tecnologia possono essere nascoste in questo zaino ve lo dico perché è veramente uno dei migliori prodotti che io abbia mai visto per trasportare tecnologia in sicurezza e anche con una buona produzione prima tasca che appare è questa è una taschina laterale può servire ad esempio per i documenti per il proprio telefonino magari per i biglietti di viaggio allora ad esempio in questo momento ci sono 100 euro di microfono 15 euro di adattatore e circa 10 euro di adattatore siamo già a 130 euro di tecnologia possiamo in questo punto trovare un travel battery pack di Sony siamo più o meno intorno a 70-80 euro visto che Sony sappiamo agli accessori un po' costosi quindi siamo arrivati intorno ai 200 euro di tecnologia volendo ci sarebbe una stessa tasca di questo stesso tipo ma in questo caso è vuota ma possiamo colmarla subito possiamo far diventare questa tasca altri 829 euro con il Galaxy S8 ho già perso il conto ma non importa lo zaino ha questa apertura principale che vedete molto ampia come spazio nella dotazione purtroppo non so più dove l'ho messa c'è una busta per il ricambio degli abiti molto carina questa cosa perché potete mettere tutta la vostra tecnologia infilare anche la busta con il ricambio degli abiti la busta a sua volta è divisa in due parti quindi per gli abiti puliti e quelli invece sporchi per il giorno del ritorno ovviamente una sorta di valigetta 24 ore ma vediamo all'interno allora ci sta ad esempio una DJI Osmo Mobile il supporto per stabilizzare le immagini un altro po' di telefonini una Cam 360 che vi mostro 2017 di Samsung ho già perso nuovamente il valore dei prodotti ma poi tanto ce la farete voi un paio di cuffie tradizionali per Bose con accessori di vario genere una pochette con un telefonino vediamo cos'è il G6 di LG e poi ecco guardate com'è organizzato bene all'interno uno spazio qui ci sta anche volendo l'iPad Pro da 12,9 pollici che ho trasportato anche nel mio ultimo viaggio e all'interno c'è un Nexus 5X lo togliamo perché da questa parte invece ecco questo è un altro spazio molto carino vedete due buste che sono perfette per portare telefonini c'è il Pixel di Google e c'è anche l'iPhone 7 Plus qualcuno tenga per favore il conto perché io non so più che cosa c'è una busta che può essere utilizzata per i cavi in cui ottengo invece il Moto Z2 Play e all'occorrenza anche qualche Moto Mode avete visto dunque spazio davvero molto generoso all'interno dello zaino nella parte posteriore questa è un'altra cosa molto interessante e intelligente soprattutto perché sapete che adesso dovete togliere il vostro zaino nel momento in cui fate il controllo in aeroporto scusate il vostro computer e quindi immediatamente computer accessibile in questa tasca di trasporto posteriore che diventa comodissima quando vi chiedono di mostrare il computer e infine l'ultima tasca è quella anteriore anche in questo caso guardate è un po' più disordinata magari ma perché lo sono io disordinato due buste all'interno abbiamo un Nokia 5 che mettiamo qui abbiamo un OnePlus 5 che mettiamo qui abbiamo un paio di cuffie di Apple ma in questo caso con l'attacco da 3,5 mm le Icon X di Samsung gli AirPod di Apple e anche le cuffie di Apple con l'attacco Lightning Port però vedete anche in questo spazio è uno spazio molto generoso con due tasche per mettere eventualmente telefonini ecco tenete conto che le misure sono 41 cm per 31 cm per 14 cm di spessore quindi vuol dire che questo sostituisce completamente un trolley anche a bordo anche con le compagnie aeree diciamo più tignose nel controllo dei bagagli ve lo potete utilizzare senza alcun tipo di problema costa un'ottantina di euro più i soldi che ci vogliono per riempirlo ma tenete conto che non c'è niente di mio quindi prima o poi qualcuno rivolrà indietro tutto ciao buona giornata